Jessica e Carlo Un radiodramma originale Gianfranco Faini Con Dalli Nielis, Borges Mendoza E Gianfranco Faini Cosa c'è da guardare? Volevo Vi dire Seria ancora arrabbiata Non lo sono E non ce l'ho con te Ho capito Vuoi stare calma adesso? Ma se ti ho appena detto che sono tranquilla So che vuoi dire Al solito fai il saputelo Il saggio Ma sei invecchiato E sinceramente Faccio fatica a seguire il tuo modo noioso di vivere Mi dispiace che non sono come dire Aggiornato Forse vecchio e stanco in anticipo sono E Aggiorniamo il nostro rapporto O entrerò in crisi Mi conosci Al solito sei stanca di me E non sai come dirmelo Certo che sono stanca di te E allora deciditi A tagliare col vecchio Da quanto tempo stiamo insieme? La colpa è tua Non hai fatto altro che invecchiare Invecchiare La tua preghia è letale per il nostro rapporto Ora ti aspettavi Che mi buttassi nella piscina del Fincocoon Dove i vecchi ringiovaniscono? Non intendevo quello Il tuo corpo è così ma Deve essere più moderno Fare più cose Frequentare la palestra Non so stare al passo con i tempi Devo fare pilates Esattamente Hai ragione Sono vecchio stampo E seguo ancora la cultura Come un sano piacere Un interesse E una curiosità Ma se no fai altro Che rileggere le stesse cose E andare a vedere Le stesse artista Veder le stesse film E ascoltare il solito autore musicale Ah, per te Natalia Gisbur Matisse Truffaut Mozart Pink Floyd Sono da provare Poi in archivio E Ma che vuol dire? Deve scettare di più la realtà moderna E non solo criticare È colpa mia Se la maggior parte dei film americani Sono pieni di sparatoria E gli artisti moderni Sono ripetitivi Uff Insomma Vorrei che aggiornasse Il tuo field world Che cos'è? L'aggiornamento dei telefoni? Se non compri il nuovo modello Sei tagliato fuori Dalle novità O dai social O dalla vita stessa Esattamente Forse anche tu Devi aggiornarti Ti ripeti È la seconda volta che dici Esattamente Scusami amore Per favore Non andare Scusami Ora va meglio Devo essere più moderno Promesso Affronterò un momento costante di cambiamento E di crescita due E andrò a Pilates Magari con mia nipote Elisa Verrò con te Di una cosa Forse dobbiamo entrambi rimproverarci Siamo ripetitivi? Sì Rifacciamo sempre gli stessi stupidi litigi Forse servono a portare il tuo sereno oltre noi due Parlando civilmente è sano Concordo mio caro E ora? Vuoi dire come dobbiamo finire questa storia? Sì, forse qualcuno la ascolterà Aspetta Senti qualcosa Un profumo di casa Sta salendo il nostro caffè E un profumo di te Jessica e Carlo Un radiodramma originale Gianfranco Faini Con Daili Nelis Borges Mendoza E Gianfranco Faini Grazie